Ciao a tutti ragazzuoli, io sono Sniperdog e benvenuti su Minecraft Questa serie l'ho appena iniziata e adesso siamo sul tutorial di Minecraft e vi volevo far scoprire solo una cosa C'è tante cose che hanno...oh dai, grazie, grazie Lo so come si usa, lo so, lo so come si usa Allora, non mi serve, non mi serve un jukebox Ragazzi, allora io vi farò... Guarda, 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 guarda Vabbò, intanto spawno i bubi Oh, va via qua Au, apra Bratello Guarda che te sto da man... Oh, ti ho spregato Ma il sacro l'ho di mazzate Ma il sacro qualcone Veglio Di la roba Voi che fate, eh, masacrate Non potete attaccarmi Ah, schiavi Io amo i cani Però... Cioè, non ho potuto, dai Non so quel cane Cioè Quello cane è un po' stronzo Ragazzi, adesso andremo Cane? Sei morto? No, no Ecco Andiamo a uccidere le pecore Dopo? Sì, adesso No, dopo Allora Adesso Adesso Vediamo Qua Si salve Ciao, gatti Guardate Posso Dare da mangiare No! Non puoi scappare Gattino di merda Vieni qua Ti voglio dare da mangiare Vieni Sei veloce come un fulmine Perché non ti posso dare da mangiare? Ah, perché la va a me No Mi prego Sono... Sono felice con te Ti voglio bene Dai Su Dai No Per te Tuo nonno Ah, tuo fratello Il tuo fratello è buono Te Ah, ti ho amico Ma quello non mi segue Mi vuole male quindi Mi vuole male quindi A quel coso Lato siamo già a tre minuti di registrazione ragazzi Oh Che scherziamo? Ah, guarda No, no No, no No, no No, no No, no No, no No Oh, finalmente Ok Zappa non mi serve questa roba Sì invece No, no No, no No, no No, no No, no Ok Ok Io ho incatto la spada E... Oh Intanto No Lo so come si fa Lo so Ok Adesso Lo mettiamo nell'inventario Lo mettiamo nell'inventario Che suono Che suono Ok E... Ci andiamo la spada So Sa che gioia acutezza Ma me te frego Quasi quasi No, non te frego dai Sono buono Lo sa che ho detto che sono Uno di quelli Così ho fatto Vi nascondete eh Dispense Allora ragazzi Siamo a cinque minuti di registrazione Dividerò il video in due parti Quindi ragazzi Ciao Ciao